Avvia l'app e connetti il tuo dispositivo Visual Note. Accedi alla sezione Effetti luminosi. Se te lo chiede, autorizza l'app ad accedere al microfono. Scorri gli effetti disponibili, scegli quello che preferisci e selezionalo per trasformare il manico della tua chitarra in un fantastico effetto scenico. Puoi anche creare i tuoi effetti personalizzati. Clicca su Crea nuovo e avvia l'editor degli effetti. Puoi scegliere tra i colori singoli o multipli, le forme disponibili o le animazioni che preferisci. Quelle che riportano la dicitura Music Responsive ti permetteranno di creare degli effetti che seguiranno il ritmo della tua musica. Puoi mettere in successione le scene che crei per ottenere un effetto lungo e diversificato ancora più stupefacente. Clicca sull'icona più per aggiungere una nuova scena. Il numero che trovi sotto il frame è l'indicazione della sua durata. Clicca per modificarla. Se vuoi eliminare uno dei frame creati, ti basta selezionarlo e cliccare sull'icona con il cestino. I numeri che puoi scorrere in basso a destra indicano le battute per minuto e ti consentono di impostare la velocità delle animazioni che non sono Music Responsive per metterle comunque a tempo con la tua canzone. Una volta creato il tuo effetto, ti basta salvarlo con un nome. Lo troverai nella schermata principale degli effetti dopo quelli di default e indicato in blu. Ora potrai stupire il tuo pubblico attivandolo dall'app con un clic. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!